Ciao a tutti, come state? Sono Kamigiri, benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi farò un makeover anni 80, quindi una trasformazione anni 80, sia per quanto riguarda i capelli, il trucco e i vestiti ovviamente. Sono molto curiosa di vedere quale sarà il risultato. Prima di iniziare però vi ricordo di lasciare un like, di andarvi ad iscrivere e di andarmi a seguire anche sugli altri miei social. Bene, iniziamo! Per prima cosa parto con i capelli. In quegli anni andavano un sacco voluminosi e soprattutto ricci, quindi vado ad arricciarli con il ferro. Eccomi qui con i ricci. Ovviamente poi li dovrò aprire, però intanto devo truccarmi, quindi li leggo dietro. Prima di iniziare con il trucco vi faccio vedere i vestiti che indosserò, perché il trucco ovviamente sarà abbinato ai colori dei vestiti. Beh, ovviamente metterò dei jeans a vita alta. Poi sopra i jeans metterò questa maglia oversize, di una specie di arancione pesca e con le maniche verdi. E poi sopra questa giacchetta qui, che è super anni 80. molto molto colorata. Io farò un trucco riprendendo il viola e il rosa. Se vedete ho fatto anche le unghie proprio di questi due colori. Quindi appunto farò un trucco molto appariscente anni 80. Qui magari vi metto alcune foto da cui ho preso ispirazione. Per il look anche lì ho preso un po' ispirazione da Google, da Pinterest. Magari vi metto qualche foto anche dei look da cui ho preso ispirazione. E direi di iniziare col makeup. Io ho messo solo il fondotinta, quindi devo fare tutto. Inizio dalla prima cosa, che sono le sopracciglia. Per quanto riguarda le sopracciglia le definisco velocemente. Giusto per coprire i buchetti e le pettino. Passo ora gli occhi, che ovviamente sono la parte principale del makeup. Metto il primer. E vado ad utilizzare da questa palette i colori questi qui. Allora, sicuramente utilizzerò il fucsia. Questo qua. Poi utilizzerò anche il viola. Questo dalla camera sembra più fucsia di questo. Però nella realtà questo è più fucsia. Questo è più violaceo, diciamo. E probabilmente utilizzerò anche questo viola qui, un po' shimmer. Quindi diciamo uno, due e tre. Questi tre colori. E poi sotto all'occhio metterò un po' di matita nera. Parto con il fucsia. Lo vado a mettere qui all'esterno. Questo è super pigmentato. Veramente un sacco. Vado a metterlo anche dall'altra parte. Poi comunque sfumo il tutto. Intanto applico i colori. ed arrivo fino a sotto il sopracciglio. Prendo ora il viola opaco e vado a metterlo qui sulla palpebra mobile. Anche questo pigmentatissimo. Lo vado a mettere su tutta la palpebra. Anche dall'altra parte. Questo video può essere anche utile a chi magari deve andare ad una festa anni 80. Oppure adesso si avvicina anche a Halloween. Quindi magari volete andare ad una festa di Halloween vestiti anni 80. Tra l'altro sono un sacco curiosa di sapere nei commenti se qualcuno è andato ad una festa tema anni 80 oppure anche altri anni. Per sapere com'è, com'è stato. Io non sono mai andata però mi piacerebbe un sacco. Non ho mai avuto l'occasione. Qui ovviamente sfumo tra i due colori. Ok, ora vado con il dito a prendere un po' di questo viola qui shimmer e ne applico un pochino giusto qui all'inizio della palpebra. Prendo ora la matita nera e vado a metterne un po' sotto gli occhi. Ok, matita messa. Ovviamente adesso tanto mascara. Il trucco è veramente molto eccentrico. Però comunque andava così. Ovviamente non per tutti i giorni però in certe occasioni sì. Comunque a me lo stile degli anni 80 piace tantissimo. Super colorato. Poi anche ad esempio i jeans a vita alta, le giacche oversize, i capelli vaporosi. Veramente bello secondo me. Mascara messo e il trucco occhi è completo. Passo ora alle labbra. Per le labbra ho preso questa matita qui. Che è questo colore qui. Diciamo un rosso misto ad un fucsia. E vado ad applicarlo sulle labbra. Anche per quanto riguarda le labbra i colori erano molto molto accesi. Matita messa ora vado a mettere pochissimo luci da labbra. Proprio così. Ora ultima cosa è il fard e la terra. Il fard negli anni 80 andava molto acceso. Io non ne ho di così accesi, rosacei, rossi. E quindi userò un ombretto di questa palette sempre. Provo ad usare sempre il fucsia che ho utilizzato. Però ovviamente lo metto molto 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 sfumato. Ok direi che è molto acceso, forse quasi troppo. Poi dalla videocamera sembra che faccia ancora più contrasto. Comunque adesso vado a mettere anche un po' di terra qui sotto. E vediamo com'è il risultato. Ok dai ho cercato un po' di migliorare la situazione. Adesso quindi è così. Ho tirato via un po' l'eccesso. Ne avevo messo un po' troppo secondo me. Il makeup è completato. Ve lo faccio vedere meglio da più vicino. E ora prendo i vestiti e mi cambio. Mi sono cambiata. Poi vi faccio vedere il look per intero ovviamente. Intanto mi metto questi orecchini qui. Anche questi abbinati alla giacca. Sciolgo i capelli. Come vedete ho messo la giacca, la maglia e i jeans. Questo è il look completo. Trucco capelli vestiti. Ora cambio postazione e vi faccio vedere il look completo dalla testa ai piedi. Eccolo qui. Il look completo. Come scarpe ho usato delle superga bianche. La giacca è veramente oversize, molto comoda. I colori sono stupendi. E trovo che tutto l'insieme sia veramente tanto anni 80. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate. Io sono abbastanza soddisfatta di questo look. Su Instagram metterò anche delle foto. Quindi mi raccomando andate a seguirmi anche lì. Rieccomi qui. Vi ringrazio di essere arrivati alla fine di questo video. Fatemi ovviamente sapere nei commenti cosa ne pensate. Se secondo voi è un bel look. Se sono riuscita a fare un look anni 80. Se avreste fatto uguale, diverso. Insomma qualsiasi commento è apprezzato. Vi ricordo poi di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Di andarvi ad iscrivere per non perdere i prossimi video. Ho intenzione di fare altri video di questo genere. Quindi trasformazioni con anche altre epoche. Pensavo ad esempio anni 70, anni 2000, anni 90. Fatemi sapere anche quello magari se vorreste vedere determinate epoche nei prossimi video. Poi se vi va andate a seguirmi anche sugli altri miei social che vi lascio qui. E vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao! Ciao ciao!